Carissimi web spettatori bentrovati, un saluto da parte di Stefano Bagliani, siamo qui alla Satiri Auto di Città di Castello per registrare la quindicesima puntata di Pinco Pallone, la nuova trasmissione per il web editata da noi di Sette Calcio, una trasmissione che appunto quest'oggi giunge alla quindicesima puntata che viene ospitata dalla concessionaria Satiri Auto di Città di Castello che è uno dei nostri partner più importanti. Oggi tra l'altro mi trovo anche nell'usuale ruolo di conduttore che solitamente occupa Simone Angelini che è un po' ai box, purtroppo sotto coperta perché comunque è costretto a letto dalla febbre, probabilmente derivante un po' dai bagordi che sicuramente avrà fatto domenica sera per festeggiare giusta e sicuramente dico la bellissima affermazione del suo Gualdo Casacastalda nei confronti del Campitello approdando così in eccellenza, un'eccellenza che quindi grazie anche alla presenza del Gualdo si appresta a diventare davvero un importante torneo visto che ha già registrato gli arrivi del Tiferno e anche della Nesta, insomma piazze importanti che si riaffacciano ben volentieri nel massimo campionato. Adesso andiamo a presentare gli ospiti, un parterre anche quest'oggi particolarmente interessante ed importante, alla mia destra troviamo Federico Barontini allenatore del Selcinardi. Buonasera. Buonasera Federico, ancora sempre qui alla mia destra, l'allenatore della Pietra Lunghese Maurizio Tassi. Buonasera a tutti. Buonasera Maurizio. Invece alla mia sinistra due direttori, c'è Giacomo Topazio, direttore sportivo del Monte Acuto. Buonasera Stefano, buonasera a tutti. Buonasera. E Fabrizio Felicetti, direttore generale dei Ticrotti Morra. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera ovviamente anche chi ci sta seguendo. Io comincerai proprio con Federico Barontini che oltre ad essere allenatore del Selcinardi è anche capitano della rappresentativa Ussi e dunque dei giornalisti Umbri che domani sera, giovedì, si renderanno protagonisti di una bellissima iniziativa qui proprio al Bernicchi di Città del Castello. Vero Federico? Sì, è una bellissima iniziativa a favore della ricerca della lotta contro il cancro e con un personaggio ormai che qua in zona è famosissimo che è Silvano Benigno che sta lottando ormai da qualche anno con questo terribile male. Però sempre col sorriso sulle labbra, sempre con grande spirito, sempre con grandi iniziative per cui quando diciamo che io da giornalista ho richiesto ai miei colleghi di fare una partita qua in zona perché se no ero sempre io fra Terni e Perugia e il Comune ci ha dato il grande supporto, insomma ci ha dato la possibilità di giocare al Bernicchi. Il presidente degli arbitri qui Michele Ceccagnoli ci ha messo subito a disposizione una terna, quindi abbiamo organizzato questa partita con i colleghi di San Marino che tra l'altro è una partita a questo punto anche internazionale e verranno al Bernicchi domani sera alle 8.30 a Città di Castello e speriamo che tempo permettendo insomma la gente risponda a questa iniziativa perché è sempre importante dare il contributo per una ricerca così importante dico a livello non solo locale ma a livello nazionale perché i fondi verranno poi consegnati da Silvana direttamente all'Istituto di Milano. Benissimo grazie Federico, intanto strappiamo magari anche la presenza da parte degli ospiti che spero verranno comunque presentarsi sulle tribune del Bernicchi domani sera, un saluto ovviamente a Silvana Benigno che è davvero una lottatrice acerrima e viene da dire contro questa malattia davvero bastarda, tra l'altro è anche la consorte di un mio carissimo amico nonché collega Fabrizio Paladino che saluto vivamente e gli auguro in bocca al lupo anche per tutto quanto insomma non solo per ovviamente la serata di domani sera. Io adesso direi intanto di passare alla lettura di quanto sta avvenendo ed è accaduto in eccellenza sia domenica che diciamo un po' guardando un po' tutti i verdetti che sono scatoriti da domenica andiamo a vedere dunque la slide. I verdetti dicono che il promosso in Serie D è il Foligno, la semifinale playoff disputata domenica scorsa tra Sansepolcro e Sansepolcro si è conclusa 0-0 dopo i tempi supplementari e dunque la finale playoff sarà tra Lama e Sansepolcro che si sarà domenica 12 maggio a Lama. I play out Massa Martana L era 0-1, l'altro play out Angelana Pontevecchio 3-2 dopo i tempi supplementari quando al novantesimo si era chiusa sul 2-2 per cui le tre retrocessioni quest'anno dalla eccellenza alla promozione sono quelle di Pievese Pontevecchio e Massa Martana. Volevo sentire un attimo anche così da tassi per esempio di questa Pontevecchio che insomma era quasi vicina al colpaccio nonostante la situazione piuttosto complicata con la quale ci si è rappresentata tanti giocatori che se ne erano andati, il mister che aveva lasciato la barca. Sì beh diciamo che il pronostico si parlava magari di una vittoria abbastanza facile per l'Angelana ma così non è stato, conferma che il calcio ovviamente può riservare anche partite difficili e mai scontate perciò la Pontevecchio credo con tanti giovani non so con quanti fuori quota ha tenuto testa un'Angelana sulla carta superiore. Diciamo che questo episodio dove è stato contestato un po' da tutti, grida vendetta e soprattutto lascia un grande amare in bocca a questi ragazzi della Pontevecchio e sarebbe stata una vera impresa e per fortuna l'Angelana ha ripreso questa partita per i capelli poi ovviamente è venuto fuori lo spessore, la qualità tecnica dei singoli di questa squadra che ovviamente sulla carta aveva vera altre armi per portare a casa la salvezza. Certo beh diciamo un po' un'Angelana che si è trovata lì non nelle previsioni perché comunque avevano pensato no? Di fare un campionato diverso. Sì sicuramente l'Angelana era partita con credo con benalti pronostici con una squadra attrezzata se non altro per fare un campionato diciamo di vertice credo che questi erano un po' i programmi della società. Poi strada facendo non so adesso quali sono state le problematiche ha portato questa squadra a mischiarsi in una classifica probabilmente dove nessuno se l'aspettava in attesa e dove poi cambiano un po' tutti i palcoscenici e lì poi bisogna avere la giusta mentalità e una serie di componenti per poi andare a lottare per conservare la categoria e qui poi bisogna essere pronti tutti a partire dalla società a partire da giocatori che sono predisposti e lì poi veramente cambiano tante cose. Invece Massa Martana che era un po' secondo il mio punto di vista un po' come l'Angelana diciamo una squadra che poteva, adesso magari la domanda la rivolgo a Federico, che poteva diciamo fare piuttosto bene arrivava da una stagione dove si era disimpegnata benissimo anche nella Coppa Nazionale arrivando fino quasi alla fine. Invece quest'anno addirittura questa batosta che secondo me è la definizione un po' giusta di questa retrocessione amarissima. Sì, come diceva Maurizio queste squadre che partono magari con altre ambizioni quando poi si ritrovano a metà campionato a lottare per obiettivi chiaramente di bassa classifica per la salvezza dopo cambiano tutte le prospettive. Non è facile poi calarsi in quella che è la realtà della bassa classifica dove subentrano chiaramente valori tecnici e anche valori caratteriali per cui una stagione che direi sia per l'Angelana che per il Massa Martana partita male e per una delle due purtroppo conclusa peggio. Io vorrei fare un plauso veramente ai ragazzi da Pontevecchio che ho visto anche le immagini della partita, ora senza andare sugli episodi perché dopo si rischia di fare magari torto all'Angelana che alla fine non ha colpe. Però direi che questi ragazzi, se non sbaglio erano sei o sette fuori quota dall'inizio hanno fatto una partita eccezionale a testimonianza che poi quando si dice che conta al di là dei valori tecnico-tattici conta veramente la voglia, la voglia di fare, la voglia di arrivare e di ottenere risultati quindi tanto di cappello e mi fa piacere che il Presidente Monsignor abbia detto subito dopo la sconfitta che ripartirà da questi ragazzi per fare il campionato di promozione il prossimo anno quindi veramente un grande complimento ai ragazzi da Pontevecchio. Benissimo, invece con Giacomo Topazio volevo parlare un po' di questa ellera che a sua volta si era ritrovata nella mischia a suo malgrado, anche un'ellera che era partita un po' con favori del pronostico comunque di far parte dell'elite del campionato invece solo all'ultimo minuto in pratica si è salvata Morso 2 a Vitamea col Massa Martana alla fine ci sono riusciti la squadra di Martinelli. Sì, potenzialmente parlando credo che dall'inizio della stagione l'ellera aveva un bagaglio tecnico e a livello individuale non è indifferente, no, su tutti credo che l'acquisto di Grido, di Peronullo stia a testimoniare quello o meglio abbia testimoniato quello che credo voleva fare di buono l'ellera. Poi dopo la stagione lunga è fatta da tante vicissitudini, da tante problematiche quindi alla fine sono arrivati un pochino formalmente con il fiato sul collo, con l'acqua alla gola la decisione di prendere Martinelli che anche se non erro che era fermo da diverso tempo poi ha rispolverato dal cilindro nel settore giovanile però a livello di prima squadra se non erro era diversi anni che non si affacciava in questi palcoscenici quindi ha preso le redini subito in mano, tanto di cappello alla fine l'ellera poi ce l'ha fatta anche se magari credo che gli obiettivi per cui erano partiti non erano proprio questi però hanno mantenuto la categoria quindi complimenti. C'è qualcosa per come si era messa anche perché avevano tante situazioni difficili dal punto di vista degli infortunati lo stesso però nullo insomma è uno che ha dato poco il suo contributo perché è sempre in difficoltà a livello fisico invece a Felicetti e a Fabrizio volevo un attimo cominciare ad entrare nella finalissima playoff è la finale giusta questo derbissimo l'arma Sansepolcro? Penso di sì, è un derby, è un derby sicuramente con tanta gente, con tanto pubblico sicuramente due ottime squadre sia il Lama che il Sansepolcro Sansepolcro è oltre la squadra una società che veniva dalla Serie D e il Lama è un ottimo organico Benissimo, adesso andiamo un attimo prego la regia di mettere la slide per quanto riguarda i numeri di presentazione di questo Lama Sansepolcro cominciamo dal Lama che gioca in casa il Lama ha concluso la stagione regolare al secondo posto della classifica con 55 punti all'attivo frutto di 14 successi, 13 pareggi e 3 sconfitte 47 le reti segnate ed è il terzo attacco più prolifico e 26 quelle incassate, anche qui terza difesa meno perforata nelle 15 gare invece giocate al Polchi-Laurenzi che sarà il teatro della sfida di domenica la squadra di Vicarelli ha raccolto 27 punti con 7 vittorie, 6 pareggi e 2 soli KO nelle ultime 3 sfide interne il Lama ha conquistato però appena 5 punti invece andiamo ai numeri del Sansepolcro i bianconeri, anche qui entrambe le squadre sono bianconeri in realtà Aiusola regola al season al terzo posto della classifica con 50 punti all'attivo frutto di 12 vittorie, 14 pareggi e 4 sconfitte 54 gol realizzati ed è il secondo attacco della categoria e 39 incassati, qui o meno bene, 9 retroguardia nelle 15 partite giocate in trasferta la squadra di Bricca ha raccolto 24 punti grazie a 6 successi, 6 pareggi e 3 KO nei due scontri diretti solo pareggi, 0 a 0 al Sansepolcro 1 a 1 al Lama Mister Tassi una partita importantissima perché comunque è un derby è la finale di un campionato importante come l'eccellenza il Lama si gioca a questa chance per la prima volta nella sua storia c'è secondo te quello che può essere l'uomo in più in questa sfida? Innanzitutto credo che vada fatto veramente un applauso a questa società al suo allenatore a tutti i ragazzi perché veramente Lama ha fatto un campionato straordinario anche di fronte a un foligno che diciamo che era dato e ha confermato da tutti un organico fuori categoria ha tenuto testa in maniera in maniera importante perciò credo che il cammino del Lama vada veramente apprezzato e sottolineato da tutti adesso questa è una sfida che sicuramente riserverà grande attenzione da parte di tutti ci sarà il pubblico delle grandi partite il Lama sicuramente ha questo doppio vantaggio di giocarsi la partita innanzitutto fra le mura amiche perciò Lama è un campo ostico ma da sempre io poi personalmente ho giocato con questi colori perciò conosco il calore la passione che mette questo pubblico Lama Marino perciò credo che sarà una partita mi auguro bella sotto l'aspetto tecnico si affrontano due squadre che hanno individualità che hanno qualità tecnica che hanno grande organizzazione perciò anche non dimentichiamo il Sansepolcro del bravo mister Bricca che si appresta a fare questa partita credo con con le carte in regola di giocarsela pur sapendo che avrà un solo risultato a disposizione però con la consapevolezza di avere una squadra con dei valori perciò ripeto ci si augura che sia una partita che possa poi portare spettacolo e l'augurio e che venga il migliore Benissimo e invece Federico oltre a se lui ci individua quello che potrebbe essere l'uomo in più perché il mister era un po' svicolato da questo punto di vista volevo chiedere anche se il Lama come società diciamo in qual caso a Prodasse in Sardì è pronta per questo tipo di campionato diciamo ma io dico una cosa soltanto che potrebbe essere un indizio per quanto il Lama si voglia giocare questa chance insomma al piano delle proprie potenzialità e sabato sono stato a vedere lo spareggio Juniors tra Lama e FC Castello e da quello che mi risulta sabato mattina nell'allenamento appunto mattutino della prima squadra non sono stati concessi credo nessuno dei fuori quota per questo spareggio Juniors questo testimonia che Lama se la vuole giocare insomma non ha voluto rischiare nessun infortunio quindi se la vuole giocare al 100% e credo senza nulla togliere il Sansepolcro che ci arriva un po' come si direbbe al palio di Siena di rincorsa perché dopo una partenza non bellissima comunque ha finito increscendo credo come diceva mister Tassi per per il campionato per la costanza che ha avuto il Lama per tutto l'anno dietro a una corrazzata come il Foligno se lo meriterebbe però ci sono dei giocatori insomma da Valori Braccini lo stesso Durso che domenica contro il Sanzista ha fatto una bellissima partita credo che insomma ci siano dei giocatori che da parte del Sansepolcro che la possono risolvere in qualsiasi momento senza dimenticare che Lama c'è un giocatore come Veneroso che credo che per quanto insomma colpi l'ha già dimostrato anche con il Foligno e in altre circostanze veramente poi c'è Bartolucci che è una garanzia c'è Silla che è stato sotto quota credo insomma col maggior rendimento della categoria ma tutto io vedo forse Lama rispetto al Sansepolcro con uno spirito di squadra ancora più più coeso diciamo così più marcato sì come diceva appunto il mister non lo so se l'ambiente crea questa situazione poi sicuramente grandi meriti al mister sarà una partita bellissima cioè bellissima ecco a livello tecnico questo non lo so magari ho qualche dubbio lo speriamo perché sicuramente in derby magari sui ritmi del Liverpool magari sui ritmi di Liverpool Barcellona sarà un po' difficile però credo che ci sarà grande agonismo ci sono i giocatori che possono veramente dare dimostrare insomma dei colpi a livello tecnico importanti e niente io credo che probabilmente questa partita non finirà nei 90 minuti benissimo allora poi dopo vi faccio fare il pronostico a tutti e quattro per cui insomma tenetevi pronti Giacomo finale di grande attese ci si attendeva forse un po' più dal Sansepolcro dopo la discesa della Serie D diciamo era un po' previsto che potesse essere l'antifoligno invece diciamo soprattutto con quell'inizio un po' difficoltoso è stato sempre un po' come diceva Federico di rincorsa diciamo non ce l'ha mai infatti mi rallaccio questo che hai detto per ultimo sicuramente era partito per fare un campionato ambizioso ha riscontrato delle difficoltà iniziali poi dopo quando perdi terreno dall'inizio e soprattutto devi rincorrere corazzate come Foligno che credo che tutti gli addetti ai lavori da inizio stagioni lo davano come per vincitore e così è stato fare come diceva prima Federico le rincorse sicuramente non è semplice fatto sta che Sansepolcro o vive al tutevere che sia si presenta allo spareggio credo in condizioni ottimali va a affrontare storicamente parlando credo che sia una partita come si affrontasse Davide contro Colia no la storia di Sansepolcro contro la freschezza del Lama è una partita che sicuramente dal punto di vista dello spettacolo mancherà ma non mancheranno sicuramente le fortissime emozioni perché credo che lo stadio di Lama non riuscirà neanche a contenere probabilmente tutta l'alta valle del Tevere che andrà a vedere la partita detto questo Sansepolcro ha storia blasona immagine ma non è detto che poi dopo in campo questi fattori facciano la differenza quello che posso dire faccio a entrambe le squadre in grosso e in bocca al lupo e come al solito vinca il migliore benissimo allora i pronostici li cominciamo Fabrizio secco vince Lama vince Sansepolcro è dura è dura perché sono due ottime squadre in questi casi siamo sempre a 50 potrebbe essere un episodio a decidere la partita vediamo dai 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 facciamo Lama dai Lama dice Giacomo secco vince Sansepolcro da 1 Federico che c'ha il microfono io secondo me è un 1-1 nei 90 minuti e poi potrebbe finire 1-1 secondo me per cui alla fine Lama anche tu diciamo Cassi è un pronostico difficile al di là è un gioco ma assolutamente ripeto queste finali hanno una storia a sé a mio parere si azzerano tutti i valori e questi valori vanno anche sopra quello che può essere il doppio risultato però per affetto potrei dire Lama e nello stesso tempo sarei felice per Mister Bricca che è un allenatore emergente giovane bravo preparato perciò voglio fare un augurio in più a Bricca e dico Sansepolcro alla fine alla fine mi sembra in parità due avete detto Lama e due Sansepolcro benissimo allora un piccolo sguardo magari prima di chiudere con l'eccellenza a quello che sarà il prossimo torneo di eccellenza giusto visto che siamo comunque alla penultima puntata di Pinco Pallone voglio fare un piccolo sondaggino diciamo visto in base alle squadre che già sappiamo che vi parteciperanno manca di conoscere se sarà la sedicesima Trasimeno o Branca però diciamo c'è già nelle vostre pensieri diciamo quella che potrebbe essere la squadra che punterà a fare un po' il foligno di quest'anno o comunque quelle due o tre squadre che punteranno senza mezzi termini a vincerlo ma allora parto io visto il microfono e onestamente nella prossima stagione non credo che ci sarà il foligno di turno immaginando un attimo i valori in campo non credo che ci sarà una squadra che partirà nettamente con i favori del pronostico da quello che sento dire questa scalata che sta facendo la Tiferno probabilmente non si arresterà nel senso che l'avvocato Bianchi presidente ambizioso hanno fatto hanno inserito una persona di calcio come Maurizio Falcinelli sì credo che sarà veramente un grande valore aggiunto e penso che sia da tenere d'occhio magari non dico come favorita ma come possibile sorpresa poi per il resto non lo so non vedo ripeto non vedo una netta favorita per cui mi immagino un campionato veramente equilibrato fino alla fine sì esatto bene Maurizio ma sì guarda mi riallaccio un pochettino al discorso di Federico credo che la Tiferno sta gettando le basi per la cosetta scalata poi bisogna vedere perché a mio parere sono due campionati totalmente diverso tra promozione ed eccellenza perciò dovrà dimostrare innanzitutto la Tiferno di avere i valori giusti avere le basi giuste per poi insidiarsi in questo nuovo campionato ripeto ci sono tutti i presupposti per farlo poi c'è da capire chi in questo campionato assolutamente sì io dico sempre che è una serie B e una serie A perciò sappiamo qual è la diversità fra questi due campionati e diciamo a mio parere riporto i stessi paragoni poi ci sono sempre le cosette sorprese bisognerà vedere il Gualdo che tipo di squadra avrà voglia di certo la stessa Nestor che comunque ha stravinto la promozione assolutamente a Nestor credo che abbia è un'altra di quelle società emergenti che ha rigettato delle basi importanti e abbia una società forte e abbia la consapevolezza di fare un campionato credo importante poi ovviamente c'è da capire c'è da capire tutto il resto delle compagini che tipo di campionato avranno voglia di fare e che investimenti soprattutto metteranno a disposizione perché poi alla fine per creare delle squadre forti dei gruppi che siano all'altezza c'è sempre bisogno delle risorse di un certo livello e ad oggi non sono facili tra l'altro ancora insomma il calcio mercato non è decollato perlomeno non ci risultano colpi particolari da nessuna parte si sta solo intanto riassestando la partenza con gli staff tecnici e le conferme diciamo di quelli che potrebbero essere i giocatori necessari per gli addetti ai lavori ancora sono diciamo proiettati a seguire questi questi play-out e play-off e poi le fatiche ovviamente si sono fatte sentire magari qualche settimana di riposo credo noi tutti ne abbiamo bisogno Giacomo tu invece il tuo pensiero sulla prossima eccellenza sicuramente ad oggi è difficile definire chi potrebbe essere il nuovo Foligno oppure se sarà un campionato equilibrato se sarà chi partirà con i falori che pronosti se arriverà alla fine in testa classifica a me realaccio e concordo a quello che ha detto sia Federico e a quello che ha detto Maurizio il campionato è ancora a terminare il calcio mercato inizia nei primi vagiti qualche vagito è già stato generato che dico la Nestor sicuramente potrebbe essere adesso scherzi a parte la vincitrice del prossimo campionato se continua il trend che ha mantenuto sicuramente è una delle squadre è persa quindi se continua questo trend sarà sicuramente delle favorite sarà così come sicuramente la Tiferno se l'avvocato Bianchi deciderà di continuare a cavalcare come sta cavalcando fino ad oggi sta rilanciando la piazza sta ottenendo tantissimi consensi lui è uno passionale uno che crede in quello che fa un trascinatore quindi chissà se Castello poi non torni anche giustamente senza non la togliere l'FC Castello hai fastidi un tempo della storia che gli compete nel calcio Bianchi diciamo che non è che l'ha mandato a dire voglio andare in Lega Pro insomma un po' come sta accadendo a Gubbio diciamo in tempi non sospetti l'ha dichiarato quindi per il momento sta rispettando il piano finora due vittorie su due diciamo alla fine insomma due promozioni in due Fabrizio io riparto da Lama e Sansepolcro perché sicuramente noi abbiamo per scontato che le due squadre chi vince domenica va su diretta io l'auguriamo sicuramente l'auguriamo però il cammino è lungo c'è riuscito al Treschina c'è riuscito anche al Cannara però non è è dura io penso che una delle due sicuramente sarà uno dei candidati il prossimo anno al prossimo eccellenza sicuramente sicuro poi vedo bene anche il San Sesto perché è una squadra giovane è una bella società stanno fatto bene fatto bene poi la Tiferno naturalmente la Tiferno di Bianchi che dice vediamo un attimo che mercato che fa e poi tutto il resto anche l'Angelana l'Angelana sicuramente vorrà riscattarsi certo beh la stessa Narnese che comunque non ha centrato i playoff che voleva per cui sicuramente insomma sarà un campionato equilibrato come penso e speriamo molto bello molto bello dai è la Serie A Umbria se non c'è il Foligno dell'anno scorso sicuramente diventa anche molto più divertente io direi adesso che per quanto riguarda l'eccellenza abbiamo concluso non mi resta che fare i migliori auguri i migliori in bocca al lupo sia a Lama che a Sansepolcro intanto perché una delle due vinca domenica in maniera corretta leale e di fronte speriamo a un grandissimo pubblico e poi la vincente che ci rappresenti degnamente negli spareggi nazionali e che riesca magari a pescare alla Serie D di facendo diventare la nostra pattuglia di squadre fino a 5 che non sarebbe poi davvero così male e dunque passerei a leggere per quanto riguarda la promozione il Girone A dove abbiamo tra l'altro anche due illustri ospiti e leggiamo i verdetti che sono stati emessi dalla giornata dal campionato dalla regolar season e dalla prima giornata di playoff e playout promosse in eccellenza Tiferno 1919 le due semifinali playoff di giocate domenica scorsa sono Trasimeno Marra San Feliciano 1 a 0 Montone Branca 0 a 2 e dunque la finale playoff di domenica Castiglion del Lago sarà Trasimeno Branca playout Mugnano Pietralunghese 2 a 5 dopo i tempi supplementari che si erano conclusi 2 a 2 e dunque la finale playout sarà Mugnano Pianello la retrocessa per ora è solo il Corciano e poi la perdente di Mugnano Pianello mentre la vincente andrà a spareggiare per l'ultimo posto Amaro diciamo con quell'altra del Girone B allora mister una salvezza domenica proprio una apoteosi 2 a 2 al novantesimo poi 3 gol e che è successo? Si può dire che è stata una finale che ha rispettato un po' i pronostici nel senso che è stata una finale ricca di episodi si può dire anche di colpi di scena dove due squadre che hanno terminato la partita in 9 contro 9 perciò tra virgolette in questi tipi di partite poi subentrano anche le polemiche per se Mugnano era un po' diciamo a rambiare e usare un neoprimico adesso questo poi però un po' ci sta io sono di parte ovviamente non voglio soffermarmi su questi episodi delle espulsioni o d'altro perché poi entraremo in polemica e questo non voglio fare poi lo lasciamo ad altri questi tipi di commenti io voglio solamente dire quello che siamo riusciti a fare noi con tutte le difficoltà che avevamo avuto fin da quest'estate perché poi noi tutti ad oggi ci soffermiamo su questa finale ma io come allenatore non posso dimenticare da dove siamo partiti fin da agosto con veramente con tante difficoltà si è parlato in estate addirittura di vendere il titolo di non ripartire perciò ci sono tante situazioni e tante discussioni poi alla fine si è ripartiti e ripeto con tante difficoltà in estate abbiamo fatto fatica in Coppa addirittura siamo andati lì a riportare dentro ragazzi che erano 9-10 anni che non giocavano più a calcio come Cecchini lo stesso Perli che è nostro dirigente assolutamente sì io personalmente mi sono sobbarcato ruoli che non non mi competevano nell'andare a costruire la squadra sì perciò perciò questo di conseguenza si prendono ulteriori responsabilità diciamo che insieme alla società questo ovviamente sono erano vari ruoli che erano già stati diciamo ponderati fin dall'inizio le difficoltà nascono da dove da una società che ad oggi fa fatica ad avere una base non avevamo quest'anno neanche la Junior nonostante avesse vinto l'anno prima l'anno prima aveva vinto il campionato di Provinciale e l'anno dopo come in un batter d'occhio è scomparso tutto non siamo riusciti a diciamo a riprogrammare a rivestire questo gruppo di ragazzi perciò la società pietarunghese era era basata su tanti ragazzi del posto 12-13 in passato che piano piano hanno dovuto chi per un motivo chi per un altro per chi per l'età chi per impegni ha dovuto mollare perciò siamo ripartiti con pochi con pochi veramente giocatori si possono contare una mano questa salvezza può essere vista come la vittoria di un campionato praticamente assolutamente sì ma forse ma c'è da fare un libro io dico che queste due stagioni e soprattutto questa ultima ha dei valori che nessuno può comprendere perché vanno vissuti e ripeto ecco siamo ripartiti a dicembre addirittura si parlava quasi di mollare tutto poi siamo riusciti a mettere dentro questi 4-5 giocatori da Sciongo a Pascolini a Carpinelli a Gaggiotti però abbiamo perso altri giocatori come Pacciarini come Zoe e poi sono venuti infortuni pesantissimi di Capitan Morodei e di Battellini che per lungo tempo questi sono un pochettino sono stati un po' lo zoccolo duro di questa squadra i vari mischianti Bagiacchi Daniele e poi fatemi spendere due parole su due capitani perché per me sono due capitani Marco Provincia e Paolo Morodei che quest'ultimo ha dovuto subire l'ennesimo infortunio dei crociati quando hanno scorsa ha giocato la finale play-out con una spalla operata due mesi prima questi sono dei ragazzi che hanno al di là dei valori tecnici hanno dei valori morali e di uno spessore incredibile perciò io voglio ringraziare tutti questi ragazzi perché sono stati unici credo che difficilmente ritroverò un gruppo con una forza interiore con questo spessore morale incredibile e poi per quello che riguarda invece la partita di domenica avevamo un unico risultato sapevamo di andare in un campo difficile in un campo dove tante squadre hanno faticato per i valori che ha il Mugnano per le dimensioni di quel campo lì perché bisogna andare a battagliare e bisogna essere pronti per battagliare noi siamo abituati a giocare in un campo importante con dimensioni importanti per la categoria perciò la speranza era quella di giocarsi la pietra lunga poi ha voluto che l'ultimo epilogo ci ha portato a giocare da loro e poi a Branca per esempio ha presentato se non sbaglio una formazione un po' non particolarmente tutti i titolari diciamo era stata ragionata insomma per comunque tanto la perdiamo a Branca oppure per risparmiare qualcuno diciamo che avevamo qualche difidato e qualche infortunio diciamo ancora non non recuperato bene perciò a Branca avremmo dovuto fare un'impresa perché io reputo il Branca stava in pareggio o no? no neanche il pareggio non ci sarebbe bastato noi avevamo due risultati su tre ed erano legati chiaramente alla gara di Pianello tra Mugnano e Pianello ovviamente con la vittoria del Mugnano che a mio parere l'avevo data difficile perché il Pianello si giocava veramente una stagione intera è venuto fuori questo risultato e noi avremmo dovuto fare un'impresa a Branca e credo che non avevamo né le forze non era le corde e avrei dovuto veramente mettere la squadra probabilmente avremmo potuto portare a casa anche i cocci e perciò abbiamo pensato che ce la saremmo dovuta giocare il tutto per tutto a Mugnano e ancora una volta i numeri dicono che la Pietranghese in nove stagioni in promozione si è giocata a sette finali play-out è un record è un record credo da sottolineare io personalmente ne ho giocati cinque e questa società si è giocata veramente c'è chi perde le finali Champions Coppa Italia o Europa League e c'è Matassi ma soprattutto la Pietranghese e questo credo che sia un po' si può mettere nei Guinness dei primati sicuramente comunque è un titolo di merito assolutamente sì perciò credo proprio di sì perciò va un grande applauso a noi oggi a chi in passato è riuscito come noi a ottenere questo risultato perciò la Pietranghese è dura è dura da morire invece il Selci di Barontini si è salvato diciamo due giornate giornate di anticipo o una sì due giornate di anticipo con il pareggio in casa della Tiferno ah ecco giusto sì ci siamo salvati soprattutto con un grande girone di ritorno perché il giorno di andata abbiamo avuto delle difficoltà dopo una buona partenza dopo tre ottimi risultati abbiamo avuto un paio di mesi di difficoltà la categoria per il Selci era diciamo dieci anni che non faceva la promozione per il sottoscritto dopo l'esperienza di San Secondo anche per me erano diversi anni che non faceva la promozione probabilmente all'inizio entrambi abbiamo pagato un po' lo scotto della categoria nel momento di maggiore difficoltà nella Pasola Natalizza ci siamo messi sotto come si dice e tanto non è una frase fatta ma solo con il lavoro si può uscire da certe situazioni e il gruppo ancora una volta anche qui si parla del gruppo ma anche questa è una realtà del calcio che con il gruppo ci siamo usciti anzi direi il gruppo perché dico questo perché ci sono state alcune partenze avevamo alcune infortuni importanti e nonostante questo il giorno di ritorno anche se le prime tre partite abbiamo fatto solamente un punto però avevamo visto che era cambiata era cambiata l'aria era cambiato lo spirito abbiamo fatto poi un filotto di tre vittorie ci siamo tirati fuori dalle sabbie mobili anche se non completamente perché la San Marco il giorno di ritorno ha fatto benissimo la stessa pietra lunghese insomma abbiamo dovuto battagliare fino alla fine ma il giorno di ritorno abbiamo fatto veramente bene sono immersi quelli che erano i nostri valori probabilmente che ci dovevano mantenere fuori dalla zona calda già dall'inizio ma per problemi che noi sappiamo all'interno e non c'è stato possibile poi la società è stata brava no perché sono quelle classiche cose che rimangono spogliatoi esatto ed è giusto no no ma è giusto così io ripeto abbiamo avuto un pa... analista allenatore dovresti... eh lo so ma in questo caso sono come allenatore quindi no abbiamo avuto abbiamo avuto un infortunio uno di un sotto quota Calderini che era un titolare fisso e che ci permetteva ora non voglio entrare in esamine tattiche ma ci permetteva aveva caratteristiche per giocare in un certo modo alla quarta di campionato si è fatto male e non è più potuto rientrare abbiamo avuto la pubalgia di Bianchi che per la categoria è un giocatore extra lusso abbiamo un infortunio di Cecconi che è il capitano della squadra quindi abbiamo avuto dei motivi poi ne abbiamo avuti altri interni ripeto che non sto a dire li abbiamo comunque messi a posto grazie alla società perché ci sono persone veramente che tengono al secci e l'hanno dimostrato i giocatori si sono stretti sono stretti anche all'allenatore abbiamo mangiato tanta polvere per non dire altro ma ci siamo ci siamo tirati fuori con le nostre forze e quindi era l'obiettivo del secci alla fine della stagione diciamo nel complesso è positiva no è positiva perché dopo dieci anni che una società non fa la promozione il primo obiettivo deve essere quello di confermare la categoria certo poi adesso magari do una notizia qui che il prossimo anno sarò l'allenatore del secci ah beh è la prossima domanda sì no ho anticipato ho anticipato la giornalista ho anticipato e già la società si sta mettendo al lavoro per allestire una squadra che magari possa non dico puntare a playoff o meglio tribolare di meno sì soffrire di meno e poi si sa che la promozione è un campionato equilibrato quando si è in una zona di classifica tranquilla poi i playoff sono sempre vicini quindi ecco l'ambizione della società del prossimo anno e del sottoscritto come spero dello zoccolo duro che rimarrà della squadra è quello di fare qualcosa in più di quest'anno e se le cose gireranno bene ce lo meriteremo magari di puntare a playoff invece Tassi sa già qual è il suo futuro è ancora pietralunghese oppure no il mio futuro non lo so per il momento sinceramente mi vorrei prendere veramente una pausa non di riflessione di riposo ho bisogno di riposarmi e non sto pensando assolutamente a quello che può essere il mio futuro per quello che riguarda la pietralunghese calcio per me finisce qui lo posso già dire fin da stasera e lo sanno tutti lo sanno i ragazzi lo sa la società al di là di tutto diciamo non te la sentiresti di fare un'altra stasera no assolutamente no assolutamente no ma ma per mille motivi ma non io credo cioè io ho allenato a Pietralunghese per sei o sette anni se non ricordo bene tra ritorni ed altro e sono le ultime due stagioni sono state delle stagioni difficili dove dove il sottoscritto insieme a questi ragazzi abbiamo fatto grandi sacrifici io personalmente credo di aver ricevuto tantissimo da questi ragazzi dalla società e io credo di aver dato veramente tanto e non mi sento più di dare niente in questo ambiente e perciò è giunto il momento che mi faccia da parte e mi voglio portare queste soprattutto queste ultime due salvezze e l'ultima in particolar modo me le porterò per sempre con me e voglio voglio veramente chiudere questa questa parentesi con con questa gioia con questa soddisfazione che adesso è arrivato il momento di festeggiare insieme a tutti i ragazzi perché ripeto abbiamo abbiamo già sei stato contattato da qualche società no ad oggi nessuna società è nelle mie tracce io adesso diremo che Maurizio Lassi non resta la pietronese no questo è ufficiale è sul mercato è questo è ufficiale però ripeto io ho anche un'attività dove in quest'ultimo periodo ho un po' un po' non ho trascurato però ovviamente ho ho fatto al massimo sì però devo ringraziare i miei colleghi ovviamente che hanno fatto un po' le mie veci e comunque ecco ripeto adesso è il momento di festeggiare questa salvezza che è un'impresa veramente nel vero senso della parola perciò va ulteriormente il mio ringraziamento a tutti ripeto a chi non solo ai giocatori ma anche ai miei a mio staff ai miei collaboratori a Michele Balirari ad Alessio Fumanti al nostro allenatore di portieri Claudio Cecchini e tanti altri potrei nominare tanti perché voglio fare questi nomi perché ripeto sono state le persone che mi sono state vicino lo staff e tutti quanti non c'è solo allenatore ma poi c'è assolutamente altre persone che da anche possiamo ringraziare come si dice sempre l'ultima ruota del quadro anche i nostri custodi perciò ringraziamento va a tutti fondamentali a chi mi è stato vicino a tutti perché io poi non solo ho tanti amici lì perciò Pietralunga è nel cuore cioè io sono nato a Pietralunga non vivo più da Pietralunga ormai da 20 anni più perciò però ripeto è il tuo cuore è lì assolutamente sì perciò è giunto il momento veramente di dire di voltare pagina poi dove sarà il mio futuro non lo so potrebbe essere anche riposo a casa dopo a micro assolutamente con la mia famiglia perché la mia famiglia è stata appazientata molto soprattutto mia moglie perciò adesso è giunto il momento di assolutamente benissimo allora adesso passiamo un po' a quella che sarà invece la partitissima di questo girone tra Simeno Branca tra Simeno che ha vinto 1-0 grazie al gol di Miccio 1-0 contro la Marra Sanferriciano mentre il Branca ha vinto a Montone una sorpresa Giacomo questa vittoria del Branca oppure la vittoria del Branca Montone la vittoria del Branca Montone sorpresa nì credo innanzitutto vorrei parlare del Montone dare adito e merito al Montone del campionato secondo me straordinario che ha fatto perché io conosco l'ambiente ho giocato a Montone sono veramente pochi dirigenti ma buoni che hanno ripreso il Montone dal precedente fallimento riportandolo alla terza categoria in pochissimo tempo in promozione credo che il Montone terzo in promozione sia un risultato per loro straordinario e rinnovo i complimenti al Montone risultato sorpresa non proprio perché poi fondamentalmente il Branca credo che sia una corrazzata non indifferente negli ultimi mesi ha avuto qualche difficoltà ha perso un attimino il treno dalle primissime posizioni però mister Caporali quando sposa nei momenti cruciali nei momenti cruciali però ricordiamoci che questa stessa c'è stata la scissione fra Branca e Fontanella dolorosissima quindi anche loro credo che si erano dovuti un attimino riboccare le maniche e ripartire però vuoi la riconferma di mister Caporali che conoscendolo quando sposa i progetti li vuole portare a termine nel miglior modo possibile sono arrivati credo a questa partita in maniera atleticamente e psicologicamente parlando ottimale hanno sul classato dall'immagine la partita non l'ho vista il Montone pizzicando nei momenti cruciali della partita hanno portato a casa tra virgolette il risultato in maniera meritata qualche reclimazione a parte del Montone su un episodio sospetto su un possibile rigore su Ceppodomo però ripeto mi va di complementarmi con il Montone per quello che ha fatto le partite poi finali semifinali che siano partite secche ognuna la sua storia poi nella maggior parte dei casi delle partite di domenica proprio le squadre che partivano sia dall'eccellenza che dalla seconda cadoria con il risultato a sfavore il fattore campo è stato poi ribaltato perché molte squadre hanno portato a casa il risultato fuori casa ribaltando con un solo risultato a disposizione quindi complimenti ad entrambi in bocca al lupo per il Branca per la finale di domenica dove sicuramente non sarà facile perché va a affrontare un altro errore corrazzata del Gerone diciamo che per quanto riguarda il mio punto di vista a inizio stagione erano Tiferno Trasimeno e Branca le squadre più attrezzate per provare il salto e alla fine insomma il Tiferno è andato su Trasimeno e Branca faranno la finalissima e chi vince va su direttamente senza dover attendere nessun tipo di altra di altra sfida però comunque complimenti anche da parte mia sia al Montone che alla Marra perché hanno fatto comunque un campionato eccellente e si sono ritagliati un bello spazio anche nella fine stagione insomma anche se poi una vince e l'altra perde purtroppo Fabrizio invece adesso c'è questa finalissima tu come la vedi Trasimeno Branca vorrei ritornare un attimo dei due mister che primamente vorrei fare i complimenti ai mister però anche alle società perché nei momenti ho seguito sia il Selci che Pietralonga e anche nei momenti duri nei momenti duri non hanno mai messo in discussione gli allenatori e per la società questo è è importante ha dato fiducia ma anche tanto noi ormai dirigenti si sentono parlare hanno sempre dato fiducia sia a Federico che al mister e questo è importante andare avanti col gruppo e insieme con il mister certo per quanto riguarda Trasimeno Branca Trasimeno Branca Trasimeno fai un commentino poi ci dici il pronostico anche qui no vabbè comunque Trasimeno Branca mai oggi Trasimeno dopo dopo la Latiferno era la squadra favorita dopo il Montone secondo me la rivoluzione anche se Renato ancora un altro anno ha fatto un bellissimo lavoro assolutamente ho visto tra l'altro ho visto la partita ho visto le immagini e sicuramente con col Branca Branca a Montone aveva per 5-2 in campionato era dura invece ha dimostrato che si merita la finale dai posso dirti che Caporali è stato nostro ospite non mi ricordo se la settimana precedente ed era proprio lo vedevo che era convinto l'ho visto che era convinto proprio del suo Branca insomma poi dopo no no infatti l'ho notato anch'io questo l'ho notato e beh ora sarà finale sarà una bella finale dai e che ti dico che ne so fare un pronostico dai è un giochetto come abbiamo fatto per l'Ama Sansepolcro dai Trasimeno dai Trasimeno gol di Bevilacqua gol di Bevilacqua sarà contento il nostro amico Giacomo partita secondo me è deciso da un singolo episodio un calcio piazzato dico anche io bevi l'acqua per la Trasimeno invece da quest'altra sponda voi che li conoscete bene visto che avete affrontato tutte a due sì io quando abbiamo affrontato il Branca nel giorno di torno avevo un po' a metà del giorno di torno avevo un po' di problemi con gli infortunati quando dopo recuperi tutti i giocatori ai Bellucci Montanari Gnagni Gaggiotti credo che credo che i valori insomma del Branca siano valori importanti l'altro canto la Trasimeno Gibbs Bevilacqua Miccio Moiano Piazza insomma sono due squadre che sono due squadre dicevate prima insomma Latiferno la prima favorita io io all'inizio ci mettevo più la Trasimeno forse della Latiferno però hanno dimostrato di essere due grandi squadre arrivano secondo me tutte e due arrivano in condizione in forma vedo una bella partita non so io mi sento di dire però Branca perché anch'io ho visto le immagini della partita e ho visto anche negli sguardi a parte che mancherà Bellucci se non sbaglio che ha preso l'espulsione alla fine e questo per il Branca sì è in assenza davvero pesante però ho visto i giocatori come dicevi te il mister era convinto e ho visto anche alcune riprese insomma in primo piano ho visto veramente lo sguardo dei giocatori convinti per cui nonostante l'assenza di Bellucci punto sul Branca invece Maurizio pareggia il pronostico allora intanto apro una piccola parentesi voglio fare i complimenti al Montone ovviamente sia come ciò come squadra e a mister Renato Borgo che tra l'altro è un amico per il campionato per queste stagioni dove il Montone ha dimostrato di essere organizzato di essere all'altezza di fare questo questo campionato perciò si è meritato di giocarsi questo questo spareggio poi è andata male però credo da questo da questo campionato da questa partita credo che il Montone ripartirà ancora più forte per quello che riguarda queste due squadre io ovviamente le ho affrontate diciamo nelle ultime gare di campionato alla penultima l'ultima perciò ho abbastanza chiaro quello che può essere diciamo il valore io dico dico che dunque ha fatto la Tresimeno ma Tresimeno ovviamente non è una sorpresa perciò parliamo di una squadra probabilmente più esperta anche più fisica e sicuramente è pronta con questo doppio risultato a giocarsi questa partita nella maniera importante poi non dimentichiamo che è guidato da un allenatore esperto come mister Cagiola perciò sicuramente avrà il pronostico a proprio favore però dico che il Branca ho trovato una squadra fresca organizzata dove ha recuperato tutti gli effettivi perciò per me non è una sorpresa che il Branca sia riuscito ad andare a vincere anche a Montone nella maniera più assoluta perché ripeto ha giocatori esperti come Gnagni come Bellucci lo stesso Gaggiotti Lapazio qui parliamo di giocatori che vengono dai passati campionati di eccellenza da campionati di serie D perciò credo che abbia le carte in regola però dico Trasimeno per un semplice motivo l'assenza di Bellucci Luca è un'assenza pesantissima Luca è un giocatore che ancora ad oggi in questa categoria è un lusso può sportare qualsiasi equilibrio lì davanti è un giocatore insostituibile perciò non vedo un giocatore che possa prendere forse è stato un po' il tassello che è un po' mancato magari lì davanti quando magari quelle poche partite o qualche infortunio l'assenza di Luca ha portato magari ad avere un reparto offensivo però i vari montanari ci sono fuori quota importanti è una squadra ripeto fresca dove dove il mio amico Carlo Caporali fa giocare molto bene perciò ripeto do un vantaggio alla Tarsimeno per i motivi che ho detto prima però credo che il Branca se la vada a giocare è una partita secca assolutamente sì alla fine il pronostico solo per giocare perché comunque a mio giudice è 50 però ad oggi ripeto con questa assenza per i valori dico un 60-40 benissimo andiamo a chiudere per quanto riguarda la promozione gironea ricordando appunto le due partite in programma domenica una è questa di cui abbiamo parlato finora Trasimeno Branca che si giocherà Castion del Lago e l'altra è chi vince di queste due ovviamente va in eccellenza in maniera diretta l'altra è Mugnano Pianello che è la finalissima dei play out diciamo chi vince o meglio chi perde e retrocede chi vince va a spareggiare invece con la vincente del girone B che sarà tra Nuova Gualdo Bastardo e Pila e andiamo proprio a vedere quello che è successo nel girone B di prima di promozione con i verdetti allora promossi in eccellenza Nestor e Gualdo Casagastalda qui già le conosciamo entrambi in quanto la finale per distacco si è disputata già domenica scorsa tra Gualdo Casagastalda e Campitello e ha vinto il Gualdo come abbiamo ricordato in apertura per 3 a 0 mentre il play out era uno soltanto anche qui Petrignano Nuova Gualdo Bastardo hanno vinto i padroni di casa 1 a 0 guadagnandosi così la salvezza mentre la Nuova Gualdo Bastardo di Genovasi dovrà vedersela in casa con il Pila e vale il discorso che abbiamo fatto in precedenza mentre l'unica retrocessa in questo momento è il Terni Est io oltre a riformulare gli auguri o meglio i complimenti al Gualdo per questa importante affermazione e per ritrovare una squadra di così grande blasone nel massimo torneo regionale volevo porre invece un quesito agli ospiti riguardante le retrocessioni dalla promozione alla prima ma 5 retrocessioni su due gironi non so un po' pochine secondo secondo voi ma io dico che mentre di contro dalla prima alla promozione sono solo 6 su 4 gironi ma se non sbaglio mi sembra favorire un po' più chi perde rispetto a chi si però ormai è già qualche anno che c'è questa formula se non sbaglio insomma ormai abbastanza non per questo no no che vada bene questo è vero guarda su questo onestamente non so cosa a dirti però si è vero ci sono forse sono un po' poche ma col discorso dei play out comunque è un campionato che rimane vivo fino alla fine si assolutamente quindi si il numero dopo ci sono vari spareggi che ti possono permettere di salvarti praticamente parliamo di due squadre e mezza a girone si esatto si potrebbero diventare tre cambierebbe chiaramente però scusa tocca vedere un attimo le squadre della serie D no? si si però insomma nelle ipotesi migliori sono 5 si se retrocedeva il Bastia erano 6 la promozione si sono sempre legate al discorso della serie D 5 è un numero veramente esiguo io la penso così perché di contro penso che chi vince i play off di qualsiasi giro dovrebbe essere comunque promosso ecco questa è la mia battaglia la mia convinzione volevo uscire un attimo da questo discorso che adesso mi hai nominato parlando dello spareggio della finale della nuova Guardo Bastardo se mi posso permettere vorrei fare un grande in bocca al lupo a Carmelo Genovasi che mi ha allenato quando sono arrivato qua a Città di Castello è un po' che non ci vediamo però un bellissimo ricordo di Carmelo quindi niente anche se non chiedi pronostici questa volta insomma faccio un grande in bocca al lupo a Carmelo ecco spero che possa coronare entrato in corsa e spero insomma che possa riuscire a salvarsi benissimo tu vuole dire qualcosa a proposito dei play out è una cosa che ho detto io no invece Topazio questo Gualdo che torna in eccellenza come lo vedi insomma può riuscire c'è la possibilità che vengano rimerditi un po' i successi del passato c'è la possibilità di organizzare una bella squadra per secondo era ora era ora di più a Chitto quello che posso rispondere è questo perché veramente la piazza di Gualdo non ha bisogno di presentazioni sia lo scenario sia il contesto che il blasone e la storia della società sicuramente era riduttivo vedere il Gualdo in promozione sono felicissimo che è tornato in eccellenza e gli auguro ancora se è possibile con la programmazione che faranno di continuare a cavalcare l'onda l'entusiasmo che si è poi visto dalle immagini a Gualdo domenica 500-600 persone presenti null'altro da dire credo che Gualdo si meriti questo e molto di più e spero veramente di rivederlo ancora magari crescere di categoria perché è quello che si merita è una piazza che ha fatto un po' la storia del calcio ha fatto Lega Pro il Gualdo ha fatto Lega Pro ha sfiorato la Serie B ha sfiorato la Serie B ha sfiorato ha sfiorato la Serie B addirittura un anno due forse non mi ricordo adesso due finali poi se non erro nel loro motore del settore giovanile il loro precedente allenatore adesso mi sfugge il nome Balducci direttore generale questo è un tassello importante come tutti noi sappiamo il calcio giovanile soprattutto chi ha le giovanili pronte e preparate per la prima squadra è un bacino importante credo che avere Roberto Balducci all'interno di questo contesto sia una cosa importantissima ripeto Gualdo sicuramente merita altri lidi anche rispetto all'eccellenza certo benissimo allora siamo un po' a corto con i tempi per cui chiudiamo la parentesi sul girone B di promozione ricordando ovviamente la vittoria del Gualdo e rinnovandogli ovviamente i complimenti e ricordando che l'unica partita rimasta di questo girone si giocherà domenica a Marcellano tra Nuovo Gualdo Bastardo e Pila la vincente la perdente retrocede la vincente giocherà con la vincente di Mugnano Pianello e passiamo dunque alla prima A alla prima categoria girone A dove abbiamo due illustri ospiti e dunque approfondiremo un po' più su questo girone rispetto agli altri tre leggendo i verdetti promosso in promozione FC Castello semifinale playoff Padule San Marco Pierantoni 4 a 3 e dunque la finale playoff di domenica prossima sarà Virtus San Giustino Padule San Marco i due play out Monte Castelli Ponte Pattoli 2 a 3 Val di Pierle Tiberis 0 a 1 per cui insomma saltato il fattore campo in maniera completa Ponte Pattoli e Tiberis che si salvano finale play out Monte Castelli Val di Pierle retrocede per ora solo il Resina allora andiamo un attimo con i nostri diciamo due ospiti più rappresentativi di questo girone una semifinale playoff bellissima per lo meno a vedere dei gol 7 gol 4 a 3 per il Padule non so se avete avuto modo di vederla ma Fabrizio com'è insomma purtroppo domenica sono stata a casa dopo una pergola lunga basta guarda sul divano però per quanto hai visto durante il campionato diciamo poi ho sentito e l'avversaria meritevole anche un po' l'albitro cioè ci sono stati un po' però due ottime squadre sia il Padule che il Pior Antonio era una bella partita però non so Padule era la squadra giusta diciamo quella meritava più durante il campionato Padule forse è stata più cioè una squadra più equilibrata fino alla fine ha tenuto testa San Giustino San Giustino San Giustino e Castello sicuramente ha meritato dai merita merita questa finale dai adesso domenica c'è questa super finale San Giustino ci riprova anche quest'anno contro il Padule come la vedi questa partita sì San Giustino ci riprova anche quest'anno gli faccio un piccolo passo indietro all'inizio della stagione chiunque ha detto ai lavori che ha previsto le carte del campionato era facilmente intuibile come sarebbe andato a finire poi alla fine Castello che avrebbe stravinto il campionato se non erro perdonatemi se sbaglio il Castello è la seconda squadra dall'eccellenza a scendere fino alla seconda che ha raggiunto il maggior numero di punti possibili 72 dietro la Nestor se non erro Pierantonio San Marco Padule l'altra l'altra che è arrivata per distacco il Calzolaro insieme a San Giustino erano l'MDL è arrivato l'MDL quinto secondo San Giustino per distacco hanno fatto il pre-off e poi di conseguenza ha giocato Padule contro Pierantonio partita secca San Giustino con il risultato a favore gioca sul campo amico sicuramente si vorrà rifare dello scotto della finale persa lo scorso anno ma io dico attenzione al Padule perché il Padule memore della scorsa stagione in cui ha avuto un crollo clamoroso dalla metà seconda dal secondo giro di ritorno fino alla fine quest'anno invece ha fatto l'opposto è venuto fuori proprio nelle ultime giornate c'è un entusiasmo io domenica non ero presente ma me l'hanno raccontato c'è un entusiasmo pazzesco vuoi perché magari forse inebriati nel periodo dei cieri sono veramente carichi carichissimi quindi credo che andranno a Padule convinti del proprio potenziale hanno dei giocatori veramente importanti uno su tutti Bertinelli attaccante ex Gubbio quant'altro andranno a fare la partita a San Giustino e credo che avranno molte possibilità di portare a casa il risultato pieno invece in coda doppia sorpresa il fattore campo saltato hanno vinto le squadre messe in maniera peggiore aspettavate questa situazione due sorpresi due sorpresi perché soprattutto direi Ponte Pattoli Montecastelli domenica l'ultima partita ha giocato con noi io l'avevo visto bene e invece il Ponte Pattoli ha fatto il colpaccio è stata una partita mi hanno detto che è stata una partita tirata però Ponte Pattoli anche perché il Ponte Pattoli secondo me non era da penultimo posto io però alla fine mentre la Tiberis ha fatto anche la Tiberis ha fatto un'impresa perché ho letto grazie a te con le liste ho letto i ragazzi l'età l'età 4,99 4,98 parli della Tiberis 2,2 mila è tanta roba è tanta roba per cui insomma avere anche vinto è un valore aggiunto ha fatto un bel risultato e ora domenica c'è Montecastelli e Val di Pier e questa come la vedi? Signore lei mi cogli difficoltà perché come ben sai credo ho lasciato un pezzo di cuore a Val di Pier e a Calcistica perché ho militato lì 10 anni e quindi credo spero vivamente che il Val di Pier possa vincere domenica Montecastelli perché sarebbe quello che a me farebbe molto più piacere invece Fabrizio oggi la giornata per l'impegno su tutte le partite secche un campo su due le squadre penso che però sarà una partita dura Montecastelli ha due risultati su tre no? conta poco quando arrivi abbiamo visto sulle semifinali nulla è contato però io dico Montecastelli dai lo diceva di Pier dico Montecastelli invece per quanto riguarda i tigrotti Morra diciamo salvezza un po' all'ultimo respiro abbiamo fatto un buon campionato una buona partenza il primo anno abbiamo fatto il giorno andata bene 22-23 punti zona playoff poi ci siamo un po' addeggiati 22-23 punti si pensava di essere salvi capito e allora anche il punto abbiamo mollato in prima categoria non nella seconda e c'è tanta differenza qui non si tocca mollare abbiamo incontrato le squadre tipo Montacuto tutte le squadre attrezzate il giorno di ritorno è un altro campionato rispetto al giorno d'andata ma spesso succede nei dilettanti soprattutto perché no abbiamo tutte le squadre preparate tutte le squadre agguerrite e lì se tu perdi un po' è fatto è certo però alla fine insomma sì alla fine ci siamo ripresi soffrendo parecchio soffrendo però ecco speriamo ecco l'idea di soffrire meno di ripartire e di rifare una squadra con meno sofferenza dai l'altezza della situazione bene per puntare playoff playoff ma una parola grossa di chi una parola grossa invece ci punta sicuramente ma in previsione perché no sognare è lecito se vogliamo fare una disamina di quello che ha fatto il Montaguto nella stagione appena terminata ci eravamo prefisciati l'obiettivo che era quello di migliorare il risultato raggiunto lo scorso anno ovvero la salvezza non attraverso i playoff quindi a livello di obiettivo lo abbiamo centrato francamente parlando e personalmente parlando mi rimane un pochino il sapore agrodolce in bocca perché credo che per come eravamo strutturati per come eravamo partiti per le potenzialità della società dello staff tecnico sull'esposizione della squadra e per la squadra di esposizione credo che potevamo fare un qualcosa in ampio molto di meglio ovvero salvarsi con qualche giornata d'anticipo senza tanti patemi d'animo per questo francamente lo dico sinceramente un pochino di delusione cova in me però ripeto l'obiettivo è stato raggiunto è la prima esperienza da DS ben archiviata la seconda barra terza però questa era esclusiva anche se ogni tanto stavo in panchina ho visto poco perché mi si dice poco sì effettivamente era la prima proprio ufficiale da DS porta da termine ripeto però non soddisfattissimo non troppo non tantissimo benissimo allora per quanto riguarda la prima categoria girone A abbiamo diciamo sviscerato un po' tutto ripetiamo quali sono le partite di domenica la finalissima grandissima attesa tra Virtus San Giustino Padule San Marco e poi la finale play out Monte Castelli Val di Pierle adesso direi di andare a leggere tutti e tre gli altri gironi insomma facendo un po' tutto insieme poi un piccolo commento finale con i nostri ospiti allora andiamo alla prima categoria girone B dove sono questi sono i verdetti promosso in promozione in Mantignana domenica scorsa si è disputata una semifinale play off Santa Sabina Moiano 4 a 1 e domenica prossima ci sarà dunque la finalissima Atletic Bastia Santa Sabina a Bastia il play out di domenica scorsa è stato Piegaro Real de Ruta 2 a 1 il finale dopo i tempi supplementari al novantesimo era finita 1 a 1 la finale play out Real de Ruta Tuoro e retrocede in seconda categoria il Martinea andiamo alla prima categoria girone C questi verdetti promosso in promozione l'Aclitunno e la finale la semifinale play off di domenica è stata Bevagna e BM8 Spoleto 1 a 1 dopo i tempi supplementari ed era anche questo il risultato al novantesimo finale play off sarà dunque Vis Foligno Bevagna al Blasone di Foligno i due play out sono stati Grifo Cannara Trevi 2 a 1 dopo i tempi supplementari 1 a 1 al novantesimo e l'altro play out è Grifo Sigillo Atletico Guardo Fossato 0 a 1 al novantesimo per cui senza tempi supplementari la finale play out tra le perdenti Grifo Sigillo Trevi retrocede in seconda categoria il San Luca e andiamo all'ultimo girone il girone D i verdetti promosso in promozione la Romeo Menti i play off qui sono stati le semifinali play off sono state annullate per distacco perché la finalissima si giocherà direttamente tra Tiber e Profi Culle il play out di domenica è stato Olimpia Pantalla Lugnano in Teverina 1 a 0 il finale per i Pantallini finale play out dunque Lugnano in Teverina a San Gemini che si giocherà a Lugnano unica retrocessa finora la nuova Attiglianese ricordiamo come si evolvono le situazioni qui in base al regolamento le finalissime play off si giocheranno poi un'ulteriore gara di spareggio perché delle 4 vincenti soltanto 2 approderanno direttamente in promozione mentre delle perdenti play out le 4 che perderanno domenica ci sarà una doppia sfida e comunque delle 4 si salverà una soltanto ecco giusto per farla diciamo abbastanza breve io volevo chiudere con i nostri ospiti ricordando intanto l'appuntamento di domani sera in faccia al cancro che si svolgerà al Bernicchi di Città di Castello alle ore 20 e 30 ricordiamo no Federico credo sia doveroso fare un piccolo mini appello finale sì io credo che possa essere una bellissima serata lo scopo chiaramente è più che nobile quindi richiamo in una in uno stadio come il Bernicchi che anche se dovesse esserci magari un po' di pioggia una bellissima tribuna coperta non sarà freddo quindi io richiamo insomma tanta gente perché soprattutto chi ha la fortuna di poter venire a questa partita con il sorriso sulle labbra magari a vedere lo spettacolo di due squadre di giornalisti che magari non sarà un grandissimo spettacolo però ci metteranno tanto impegno c'è la madrina della serata che è Sara Tommasi che è una showgirl che magari nel senso ecco è comunque un qualcosa in più che a livello anche di di spettacolo magari può richiamare un po' di gente quindi una grande organizzazione da parte del comune e da parte appunto dell'Ussi Umbria quindi speriamo che ci sia tanta gente e che l'ingresso è libero ricordiamolo e quindi sì ci sarà l'offerta appunto a favore della ricerca contro il cancro quindi anche anche qualche anche qualche spicciolo diciamo dai ragazzi più giovani che magari possono venire al Bernicchi e credo che sia un bel gesto quindi domani sera giovedì alle 20 e 30 tutti al Bernicchi benissimo tu invece domenica per salutarti dove io domenica io domenica andrei volentieri cioè starei andato volentieri perché è un impegno una comunione non posso assolutamente mancare ma l'ho fatto anche l'anno scorso ho visto il secondo tempo di Vistrus di Vistrus Tiferno lo scorso anno e se riesco vorrei andare a vedere Vistrus Padule perché credo che sarà una gran bella partita chiaramente non riuscirò ad andare a Castignon del Lago perché è troppo lontano e se mi posso permettere la Vistrus l'anno scorso 71 punti se non sbaglio quest'anno 62 anche se c'è del campanismo tra Serci e San Giustino credo che vada riconosciuto il merito a questa società che in due anni ha fatto insomma più di 130 punti e attenzione però al Padule ne parlavo prima col Miste che arrivano belli carichi anche tranquilli credo psicologicamente però se devo dire se devo dire chi chi merita magari visto i due campionati fatti è la Virtus indubbiamente mister Tassi invece tu andrai a vedere qualche partita oppure Divano ma se ancora in famiglia mi concedono l'ultima domenica poi basta si fino non lo so fino a quando però si comunque si garantisce che non hai ancora nessun contatto assolutamente si poi Stefano sarei il primo magari ad avere le notizie però ripeto non non sono assolutamente concentrato o aspettarmi c'è ancora parecchie scorie sì assolutamente sì quando dico che mi devo riposare lo dico veramente con il cuore sì assolutamente sì probabilmente domenica sarò indeciso se andare a vedere Lama Sansepolcro o Trasimeno e Branca perché ripeto sono sono due partite due bellissime partite assolutamente perciò ecco penso anche ci sarà il grandissimo pubblico non manco centrato però il bello di questi playoff e play out è anche play out che ci stanno tantissime persone Grifo, Sigillo Atletico, Guardo, Fossato erano 500-600 persone domenica per dire insomma play out di prima categoria per cui richiamano tantissimo queste sfide decisive anche noi Morra, Monte Castelli sicuramente 400 persone beh era un po' una finale anche quella perché comunque si decideva infatti alle volte faccio i paragoni col Trestina serie D 300-150 persone ah per cui questa è un lanci la sfida diciamo come no Morra no vabbè in un lancio sfido però certe volte questi campionati minori tirano più gente non lo dire a me perché 7 calcio sono 10 anni faccio i complimenti alla società Trestina perché sta a fare veramente di miracoli certo per carità però ecco e tu vai a Lama no ma domenica o Monte Castelli o rimani nel tuo sì no va bene due squadre che conosco certo Giacomo ma io intanto permesso che non abbiamo deciso ancora nulla su chi sarà il prossimo anno all'altro del Montaguto con l'occasione Maurizio una proposta gliela faccio infatti io te lo volevo quasi buttare con l'occasione visto anche la stima credo reciproca che ci lega perché ci siamo sentiti ci siamo sentiti nel corso dell'anno abbastanza spesso ballottaggio fino all'ultimo fra Lama e San Giustino ma poi credo che per interesse personale sceglierò San Giustino benissimo allora direi che è tutto per la quindicesima puntata di Pinco Pallone la prossima settimana sarà l'ultima la sedicesima della stagione speriamo di ritrovarci anche l'anno prossimo per la seconda comunque saluto i nostri ospiti che sono intervenuti qui alla Satiri Auto di Città di Castello una delle tante filiali che ha l'azienda Satiri che è nostro partner importante alla mia destra comincio a salutare Federico Barontini grazie Federico grazie a voi e grazie dell'invito e buona serata a tutti gli spettatori un saluto anche a Maurizio Tassi anch'io ringrazio ex oramai papabile a Montiacur lo possiamo dire ringrazio il mio amico Lapazio e no anch'io ringrazio innanzitutto a te Stefano per l'invito è stato un po' che ti rincorrevo anche a Federico veramente ma sì però purtroppo eravamo probabilmente entrambi assolutamente perciò mi ha fatto piacere soprattutto perché sono venuto disteso e con questa soddisfazione sei stato di buono di buon aspicio veramente sono contento di questo perciò ti ringrazio e auguro buona serata a tutti e anche ai nostri ospiti benissimo grazie saluto alla mia sinistra il direttore generale di Grotti Morra Fabrizio Felice grazie per l'invito e ti ringrazio anche per quello che fai durante l'anno con Sette Calcio grazie anche a voi sì vabbè però ci tieni una mano lava l'alta ci tieni sempre informato certo sempre in diretta più di così più di così che vuoi benissimo l'ultimo che saluto è Topazio Topo Topazio grazie Giacomo Topazio direttore sportivo questo nomea grazie a te Stefano per l'invito un saluto a tutti gli web spettatori e buon fine di stagione a tutti visto che ancora non è qualcuno ancora deve giocare soprattutto Sette Calcio che dovrà comunque gioco forza seguire tutte le partite fino a che non ci sarà l'ultima e poi ovviamente anche Calcio Mercato come di nostra consuetudine grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti